Attore del Greco, tre morti in 24 ore, tre soggetti contagiati al Covid-19. Non si arresta la strage legata alla pandemia. Ad annunciare il nuovo drammatico bollettino diffuso da Asla Napoli 3 Sud e unità di crisi regionale è il sindaco Giovanni Palumba, al termine dell'aggiornamento del centro operativo comunale. A perdere la vita sono stati tre cittadini, 94 anni, 96 e 72. Sale così a 92 il bilancio complessivo dei decessi legati al coronavirus, ben 72 dei quali registrati solo nella cosiddetta seconda ondata. Calano invece i contagi. A fronte ai 17 nuovi casi di positività, infatti, sono state registrate 24 guarigioni. Dati questi che portano il numero complessivo degli attuali infettati a 484, con 27 persone ospedalizzate. Tensione per il focolaio all'ospedale Maresca, con il 70% dei ricoverati nel reparto di ortopedia e chirurgia, risultati positivi. Sono 44 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 29 guarigioni. Sale a 719 il numero di cittadini attualmente positivi, 708 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Invece a Castellammare e in Stabia sono 29 cittadini risultati positivi al coronavirus ieri. 20 di essi presentano sintomi lievi della malattia. I restanti sono asintomatici. Tra i nuovi contagiati ci sono un piccolo di 3 anni e due ragazze di 15 e 17 anni. Risulta un solo cittadino guarito, un 43 anni.